Così fino a qualche settimana fa. Immagini di oggi dopo piogge temporali che hanno imperversato in Abruzzo e il torrente Piomba a Città Sant'Angelo che si è minacciosamente gonfiato. Il sindaco Matteo Perazzetti. Sì, da ieri sera abbiamo avuto la criticità sul torrente Piomba, questa mattina ha avuto l'apice, adesso siamo in una fase calante della sua portata. È un fiume che naturalmente resta un attimo di criticità anche nel suo alveo e soprattutto in quelle che sono il suo percorso. Noi naturalmente lo monitoriamo costantemente tramite un contatto diretto con il Comitato Regionale di Protezione Civile. Questa mattina in una zona c'è stata una vera e propria esondazione. Dove? A che altezza? Sì, c'è stata una fuoriuscita di quella che era l'alveo del fiume in via delle terme, ma è come dicevo prima è la conformazione del percorso del torrente Piomba che in alcune zone può portare ad avere queste forme di esondazioni minime ridotte che provano e causano naturalmente l'allagamento di tutta quanta zona e anche delle assi viarie che abbiamo immediatamente chiuso già da questa mattina. E naturalmente continuerete a monitorare anche con i volontari della Protezione Civile? Il monitoraggio sarà costante anche nel pomeriggio e fino alla serata, fino a questa sera e andremo naturalmente a vedere se ci dovessero essersi le evoluzioni tali da portarci poi a dover prendere delle decisioni. Altra situazione è quella che si è presentata questa mattina al personale scolastico del liceo artistico all'ex Ciappi di Chietiscalo. Lezioni sospese in tre classi per le infiltrazioni d'acqua piovana che hanno causato il cedimento di un controsoffitto in cartongesso. Sentiamo la dirigente scolastica Paola Di Renzo. Ho prontamente allertato i vigili del fuoco, ho avvertito la provincia, il vicepresidente che si è recato immediatamente sul posto insieme a me. Abbiamo fatto con l'RSPP e i vigili del fuoco una valutazione e io ai sensi del testo unico sulla sicurezza in qualità di datore di lavoro di concerto appunto con l'ente locale i vigili del fuoco e l'RSPP ho ritenuto di sospendere l'attività didattica in presenza quindi di garantire comunque la didattica ai ragazzi anche in vista dell'imminente esame di Stato attraverso la didattica digitale integrata per permettere appunto alla provincia di effettuare subito già da oggi pomeriggio gli interventi necessari per il ripristino degli ammaloramenti e delle condizioni di sicurezza dell'edificio. Chiusura con la voce della provincia da novembre proprietaria dell'immobile che aveva già programmato interventi di manutenzione. Sentiamo il consigliere Filippo Di Giovanni. Le vicende pregresse del Ciappi e di questa struttura purtroppo hanno visto molti anni nei quali probabilmente c'è stato un po' di trascuratezza sulla manutenzione. Già oggi le imprese alle quali avevamo già dato incarico e mandato di tenere sotto controllo la permeabilità del tetto rimuoveranno le strutture e se il tempo lo permetterà nelle prossime settimane verrà avviata sia un'attività di bonifica della parte alta e delle guane vecchie della struttura ma anche di ripristino delle impermeabilizzazioni che hanno ceduto e che col tempo purtroppo ma come si vede già dalle condizioni dei muri che sono pieni di acqua ma acqua stratificata hanno cambiato anche colorazione in certe zone e purtroppo sono manutenzioni ormai imprescindibili.